Dove siamo? Allora, abbiamo trovato il tempietto all'Ishimori Park. No, Inokashi. 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 Inokashira. Sei troppo vicino Bubi. Vieni sempre lontano. Io sono fermo. Inokashira Park. Inokashira-Kohen Park. No, Inokashira-Kohen. Vicino al Museo Ghibli, dove siamo appena andati. Adesso veniamo qui, questo parchettino, che c'è un laghettino e c'è un tempiettino. Se non l'è stato quella con la biretta. No, ne so. No, col bavaio. Anche con la biretta l'ho visto. E' stato quella biretta. No, la c'è un laghettino. No, la c'è un laghettino. E' 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 un laghettino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.